La questione di metodo è che noi con questo voto stamattina dimostriamo una cosa che pure abbiamo spiegato in tutti questi mesi e cioè che l'assenza di dialogo non era responsabilità dell'opposizione ma era responsabilità del governo perché non c'è differenza tra quello che abbiamo fatto oggi e quello che abbiamo fatto durante il voto dell'ultimo scostamento di bilancio. Abbiamo detto non vogliamo votare a scatola schiusa perché lo abbiamo fatto per due volte e buona parte di quelle risorse sono state dilapidate, diteci che impegnate queste risorse su alcuni punti sui quali noi siamo d'accordo e votiamo. La scorsa volta il governo non fu disponibile e quindi noi ci astenemmo sullo scostamento di bilancio perché non ci assumevamo la responsabilità di indebitare i nostri figli senza sapere a cosa sarebbero serviti quei soldi. Oggi abbiamo fatto la stessa identica proposta dopo mesi e la maggioranza ha cambiato idea. Quindi anche qui si dimostra ancora una volta che noi siamo sempre stati disponibili a dare una mano all'Italia mentre la maggioranza per mesi e mesi ha pensato di potersi chiudere in se stessa per risolvere i suoi problemi interni che ancora oggi deve risolvere. La posizione è compatta, noi siamo consapevoli del fatto che solamente insieme raggiungiamo questi risultati, nessun partito singolarmente in una mattinata come questa avrebbe portato a casa questi risultati che invece abbiamo portato a casa perché siamo stati uniti e compatti e siamo una coalizione forte che fa la differenza.